Festeggiamo il buon cinema e quindi è bello ritrovarci qui in presenza, che ne dite? Beh che è bellissimo, è bellissimo come il tuo sorriso, siamo qua e c'è un'atmosfera magica e siamo in un luogo dove si fa cinema e è giusto che si celebra qui. Senti, che ne pensate un po' di quello che sta succedendo perché c'è un po' un calo del pubblico però comunque c'è molto interesse, il cinema magari viene fruito in un altro modo, gli appassionati comunque in sala continuano ad andarci, voi come la vedete? Io sono sempre in una vozione di conflitto e di dubbio, che credo sia l'unica giusta anche per postura facendo cinema, quindi continuo a riflettere, è un noto interessante, non credo che dobbiamo avere la smania di trovare le conclusioni che sono affrettate o quantomeno insufficienti, credo che lo capiremo nel corso degli anni e in questo momento banalmente da regista e scrittore continua a scrivere e a dirigere e adesso va a contare con serietà e la serietà te la dà il tempo e ci spegne i suoi conti. Ok, allora è bello vedervi così abbracciati, è un sodalizio forte che continua all'insegna del cinema. Ragazzi siete Davide Ridonatello, quindi una serata importante, un riconoscimento da parte della critica, che sensazione avete, qual è il vostro pensiero? Di grande orgoglio e di grande consapevolezza che questa fortuna è appunto tale, quindi rispettiamo con grande piacere le candidature che ci hanno accarezzato per il nostro film e siamo prontissimi a raccogliere i premi che arriveranno agli altri autori, è giustissimo essere felici per chi vince, sapendo che spesso per noi che siamo stati sconfitti il fatto che ci sia un vincitore non vuol dire che ci sono quattro sconfitti e quindi in qualsiasi categoria speriamo che venga affrontato tutto con grande serenità. Voi siete molto giovani, rappresentato un po' il futuro del cinema italiano, un cinema che cerca quasi di riemergere dopo anni, un pochino così qui accanto abbiamo un mestro come tornatore e tutto. Sentite la responsabilità del fatto di rappresentare le nuove generazioni? Io sento la responsabilità di far sì che le porte del cinema per i giovani autori siano sempre più larghe e alte, quindi nel nostro piccolo proviamo ad aiutare i giovani registri a esordire, lo facciamo con grande interesse e con grande anche però naturalezza, perché crediamo tanto, noi ormai ci dicevamo già un po' vecchietti, abbiamo 33 anni, e comunque sia... ma però temo che l'asticella dell'età, anzi mi auspico, l'asticella dell'età si abbassi, continui ad abbassarsi, perché se a 18 anni si può guidare la macchina adesso si può guidare anche la baracca cinema e raccontare storie in maniera libera, che è ciò che secondo me contraddistingue un bel film piuttosto che un film meno riuscito. A che punto è il vostro prossimo progetto? Siamo in fase di location, in fase di casting e siamo in fase di esplorazione. Grazie ragazzi! A voi!